Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, bravo amore, non si tolgono, non si tiene queste cose in mano Allora, papi, sei tu, allora, che cosa dai, parla tu, parla tu, che cosa stiamo facendo, che cosa sbuca l'acqua amore Perché questo video a quest'ora, stiamo registrando, vabbè voi lo vedrete domani Perché apriremo, vabbè lo sapete, voi l'avete visto dalla immagine di copertina Le uova di Pasqua, iniziamo, guarda di venire San Valentino e già stanno le uova di Pasqua Capite? Capite? Vabbè, praticamente sono tre, volevamo prenderle di più e spacchettare tutti insieme Però ci avevamo voglia di dolce, di cioccolata, il bambino stava di là a giocare da solo E ho detto Leon, apriamo le uova E tu che hai detto? Sì Sì E sei contento di aprire queste uova? Certo Vediamo che cosa c'è dentro No Praticamente abbiamo comprato queste uova, perché? Sì, invece Le abbiamo prese dai discount, allora, due, cioè quelle che hai Leon in mano Alza amore, fai vedere Queste due, da femmina e da maschietto Una LOL e l'altra di Paw Patrol Da Eurospin le abbiamo comprate E non so, è una spin, c'è le uova delle LOL e del Paw Patrol Eh? Queste invece dei, dico cos'è questo? One Piece L'abbiamo presa da MD In realtà Lidl non ce l'aveva ancora le uova Quindi magari poi facciamo uno spaccatavo e mi sto uova Lidl Queste erano le uova che costavano di meno Quindi ho detto, ah, vediamo Per bambino e per bambina Ma di MD ho preso solo per bambino Perché c'era lo stesso di LOL Quindi ho detto, va la pena, due uguari devo prendere Allora, vediamo com'è e che cosa c'è dentro in quella da bambino E raga, era lo stesso uovo Quindi c'era che senso aveva prenderlo uguale di LOL E quindi, vabbè, di LOL Surprise E niente, come abbiamo fatto vedere della vuota attesa Vero Leon, quando abbiamo comprato queste uova da Eurospin Abbiamo detto che sono da 150 grammi Papi, questo che cioccolato è? Se fondente E con la sorpresa, amore Quindi, vediamo, senti Questa non si sente sorpresa Questa è al latte Al latte, quindi saranno tutti al latte Questa è nera, sarà nera o sarà al latte Lo stesso questo, topolino È da 150 Questa però è della Walcor Guardate, Walcor Quindi È un uova di marca Ah, quanto costava? Costavano tutti e tre 3,99 euro Quindi Erano quelle che costavano di meno Praticamente E vediamo un po' Quale voleva aprire prima, amore? Prima che lei dei Papatrali Papatrali Perché c'è la Libano Va bene Nel frattempo Nel frattempo noi abbiamo alle spalle Il Festival di Sanremo La terza giornata Oggi La terza puntata Come si dice? La terza sera Si sta provando Si sta provando ad aprire E quindi Ce lo vediamo un po' così Ciao Ci stavamo annoiando E ti apriamo le uova No? Approfittiamo Facciamo un video Dai Vedi Fai giusto Ogni giorno Oh patrano Bellino però Perché c'è Marshall Che ha il cestino Con le uova di cioccolato Cioè le uova di pasta Che carino Ma no Che abbiamo trovato Un uovo Averso Allora Facciamo vedere come si vede L'uovo Profumo Volevamo la cioccolata Eccolo qua Vuoi aprire? Come si rompe l'uovo? Avvicinati però Si rompe in testa? No Come no? E come si rompe? Mettilo qua Mettilo qua Ecco Però Però Ah Bravissimo Una botta in via Fai vedere La tua presa Che cos'è? È Marshall Ho capito che è Marshall Ma c'è Cos'è La calamita Papi Vedi tu Che cos'è Che io ho Lunghe 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 Ehi Non immaginate Che ne dobbiamo aprire tre Assaggia Com'è? È buono È buono Avete già assaggiato Finissimo Al latte Gia Non è per te Buono amore Ti piace? Buono Toglietimi di qua Cagnolini Andiamo da loro Questo è per voi Sono Beleno Beleno Ci sono le carte Memori Fale vedere Amore Ti devi avvicinare Le carte Memori Dei Pompatrol Che apriamo Quello di LOL Perché di LOL Lo può aprire mamma? Perché femminuccia E Waspies Lo apri tu No dai Lo che fa il bambino Questo se la Speriamo che non sono Le stesse carte Memori Vabbè Comunque Li vediamo a Irene Che Irene Piacciono le LOL Però non piace la cioccolata Quindi non gli posso regalare L'uovo di Pasqua Ecco perché ho detto Ve lo apriamo Bene sti spaghetti Eh Spaghetti Mi seguono domani Per farlo pure Ma no Ma tu qua Si è rotto Già Eh vabbè Si è rotto Forse è quella caduta Che ha preso prima Ah Certo Cosa Un cartoncino Lo scatolino Ah Di LOL Forse ce la faccio No Forse non ce la faccio Ah Scusate che c'è una C'è una LOL Dentro Com'è questa? È buona Forse questa è più buona La città è buona La cioccolata La fine Le tasse Ma no Una sigaretta Della LOL È vero? No Ma è rotta È rotta No no Sono silenzio Ma è rotta È bello Originale Sorpresa Oh È l'onesto Si sta sciogliendo No Vabbè Un rotolo Un rotolo con gli stickers Uuuuuh Quanti No Non finisce mai È un metro È È un metro di stickers Raga Hai visto amore? Certo Irene sarà contenta Di avere tutti questi stickers E quindi La mamma un po' di meno Però Sono tantissimi Ma proprio tantissimi Sono tanti 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 Ora la chiamo Dico Vuoi si cazzo delle LOL Oh l'irena Si Ah l'immanciata E una Quella Più Aspetta Dimmi Però l'apre il bambino Apre il bambino Si No Vuoi far aprire A papà No No Apri il bambino Apri il bambino Finca è stato Il dito Ecco qua Ce l'ho fatta Ecco qua Queste stickers Delle LOL Per i vene Ah l'hanno messo lo scosso Per te Certo Ci hanno messo lo scosso Cosa La chocolate è proprio buona Ragazzi Cioè Consigliabile Consigliata Buono Mi sono afficcicato Però L'hanno Vieni qua Metti Questo è delle Md Vediamo com'è Questo ovetto Profumo Rompilo E rompilo qua Non so Quasi mezzo rotto Ah Ah Dai Dai bravo Ah Non si è aperto Ah Altre carte memory Che cos'è Papi Guarda Come vedi Com'è questa cioccolata amore Buona Buona Per lui sono tutte buone Ma vediamo Saranno tutti uguali Però questa è della Walcor Raga Attenzione eh Questa è della Walcor Walcor Walcar Walcar Vicky Walcar Come scrivi Walcar Vabbè Vabbè Secondo me questa vince tutte Buona la cioccolata raga Lì Che cos'è One piece Ma che cos'è papi Ma che cos'è papi Guarda Anche stickers però Sopraelevati Guardate Sono più Sì Sì Saranno stickers Queste Non lo so Vabbè Che pizza Cioè si stacca Sì È tipo L'attacchi Su qualche superficie Carino 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 Cioè Allora Carino Per 3,99 euro Lion Per 3,99 Diciamo È più che buono La cioccolata è buonissima Io me la mangio Voleva mangiare la cioccolata Una cosa dolce Mmm Teresa manino Ehm No così E i cucchioli Spagna Non mi faccio Un goccetto Di vecchia Romagna E quindi Dicevo Per 3,99 euro Raga No no Vale la pena Buono buono Potete comprarlo A bambini Ovviamente Ai bambini piccoli Pure ai grandi Bambini Mmm Vabbè Perché Le stickers Alla fine Che li apprezza Vabbè Sì No Sicuramente I ragazzini Anche Li piace mettere Le stickers Attaccati Dentro Insomma Quasi Il cross Questo Questo Ma io lo so Papi E se lo attacca lui Però è difficile Forse Ah ecco Guarda Papi C'è anella Ma come si Come si Stacca? Possibile? Toglietemi di qua A voi Stacca voi Stacca le risbatte Stacca le risbatte Sì amore Però sto buttando Tutto il cioccolato Ma c'è una dietro l'altro Basta E non so Che è la sirenezza Quella? Ah è così? Vediamo No Poi E non capisco Però di qua si stacca Ok Questo è Così E si attacca Sopra qualche parte È un po' adesivo Lo stesso Per wanted 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 Ma dove vai? Vieni qua Tu sei Eh dai Così te ne vai Senza salutare Eh come Stiamo facendo il video Amore Eh Senza salutare Va bene Quindi ripeto Raga Non vuole essere ripetitiva E un bambino Le uova sono buone Forse è il primo Di Paw Patrol Era un pochino Qua sei migliore Qua sei migliore Ma anche quello di Lone È buono Però stiamo là Poi è la fine Eh Lo smetti? Sì Niente Eh Andatevi a comprare 3,99 euro Se dovete fare qualche regalino Così A qualche bambino Eh Chiaro che poi c'è Qualche bambino buono Lone Lone Ad esempio Le uova Le preferisce kinder Questo se lo mangia Li piace Ma non gli fa Il regalo della vita Il regalo della vita Di Pasqua È L'uovo kinder La uova L'uovo kinder Le uova Le uova della kinder Quelle grandi Le uova di Pasqua Però Dovete fare qualche regalino A qualche bambino Senza impegno Così O sono tanti nipoti Secondo me 3,99 euro E vai Piace Piace Bambini E va bene Quindi tutto qua Ragazzi Quindi Per le uova di Pasqua Questo è stato il primo video Sicuramente Ne faremo Tanti altri Si spera Di video Di uova di Pasqua E appena Li metterà Lidl Facciamo anche Il video Di Lidl Compriamo qualche Uova di Pasqua Di Lidl Vi ricordo Che due anni fa Mi sa Il primo Il video Che facciamo Un cassino Di visualizzazioni Fu proprio Un uovo Della Lidl O di Eurospin Al pistacchio Forse di Eurospin 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 Lidl Fate quelle uova così Deluxe Molto particolari Quelle più lussuose Diciamo Riccose Quelle che costano assai Il cane Fatele E che vuoi Perché sei ritendo Così da sola Perché No 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 C'è qualche cosa Facci ridere Per a noi No Capito Ti sei ricordato Una barzelletta No No E' un bambino Muone E quindi E quindi Niente Ai prossimi video Uova di Pasqua Questo è stato Il primo video Delle uova Sì E quindi Ne seguiranno Tanti altri Perciò Iscrivetevi Al canale E E niente Ragazzi Noi ci vediamo Al prossimo video Vuoi chiudere Tu papi Ciao Ciao Ci vediamo Ciao